Dobbiamo mettere un minio Un minio? Mettiamo l'ossidiana qua dietro L'ossidiana... Boh Ossidiana o legno? No Non lo so, è una cosa... Allora, dipende da quale legno Sceglilo tu Loc È già alto Loc Eh ma giusto... No, non è vero, lo compro, vero Loc E... non lo so No Scegli un legno che ti piace Che ti soddisfi Lo obsidian mi dà l'ender cesta L'ender cesta è una cosa bella Mettiamo l'ossidiana allora Vai, metti l'ossidiana Vai Facciamo la tutta forma bella qua dietro o no? Ah Eh, potrei Come non potrei O qua davanti Te la buildo io Potrei farlo... Te la buildo io, guarda O al posto dei mob, dove stanno adesso i mob E... O al posto... Ti faccio vedere con che velocità build, aspetta Aspetta No, aspetta Non so da che lato farlo E tu vieni... Guarda Sembra che... Hai luck Sembra che ho la panina in the bridge E sto citando Hai luck quella per buildare Hai contato 27 blocchi? No Anche secondo te mi metto a contare La velocità Aspetta, posso contare Vabbè, metti 27 blocchi nell'inventario Esatto, poso gli altri lì Quando li ho finiti Tanto non serve allungarla Oppure sì? Ah, è vero, potremmo allungarla Questo non c'ho voglia 27 incluso lo spigolo? Così viene No, incluso lo spigolo Così viene un bellissimo quadratone tutto squadrato Bellissimo perché questa cosa non è simmetrico Perché ci stanno i quadrati Ah, quelli là I primi quadrati sono simmetrici più o meno Più o meno E gli altri sono più gradi Che sono fatti praticamente precisi per le farm C'entrano 9 farm dentro È troppo divertente Boh, non lo so, non c'ho manco voglia di contare È giusto Mi devo prendere un po' di cash E comprarmi la terra Comprare un sacco di terra Dovremmo riorganizzare un po' le casse di nuovo Eh, dai, piazziamo qualcosa però Adesso vado a prendere la terra La piazzo a casa l'ossidiana finchè non ti decide Eh, aspetta, sto prendendo la terra Ok Così faccio solo uno spiazzo Vuoi solo lo spiazzo lì dove lo vuoi? Oppure lo continuiamo dritto qua dove ci sono tipo Questa cosa che hai fatto non è male Cosa? È stato tutto con l'hawk Cosa? Hawk ne abbiamo anche No, potremmo continuare questa riga centrale che hai fatto di meno Ah, sì Però devi lasciare uno spazio di... uno spazio No, no, devi lasciare uno di spazio È una simmetrica Ah, ok, sì Ma non è hawk Poi hawk Sì, è hawk Non lo so, ci sono le lampe, non capisco È hawk, è hawk È lo stesso legno questo, quello? Ah, no, quello no Che legno è? Quello è birch Allora... Io cambio Eh, birch... Ok Facciamo comprarci un builder che ci builda tutta l'isola Lo paghiamo in purse Cercasi builder Voglio l'isola come quella di Tembio, è stupenda, è tutta medievale Allora sono in cinque Credo uno è uno schiavo che builda Che è troppo bella quell'isola Alla fine sarebbe quello, lo scopo della Skyblock, fare un'isola bella Noi invece la usiamo solo per fermare Anche se la maggior parte della gente ha l'isola più o meno come la... La nostra è un po' più funzionale, è la nostra però Eh, forse era uno o due, vero? Eh? Due per lato e qui sotto c'era il minion Faccio anche il trade delle grass Però c'era gli hopper Ah, non li hai messi dappertutto gli hopper forse, vero? No, no, no Ha solo una linea per portare alla doppia cassa Che è la linea centrale che è questa Perfetto 90% ready Niente, continuo a cadere con questa spada Devo riforgiare e prendere più intelligence Perché continuo a non avere mai abbastanza mano Vabbè adesso che facciamo le magma armor Ti danno un po' più di intelligence Quindi... Borgi non mi ricordo qual è il coso per le intelligence O il clean... Il clean mi sembra O il clean o qualcos'altro Non è il clean Mythic ti dà un po' di tutto Ma gli emeraldi incantati? Forse questo Il pure da più due intelligence Un giorno ramostella via a spammare emerald Penso che bello Eh... Aspetta ti devo aiutare a buildare Fammi mettere... Ho comprato un po' di dirt Ah... gli oak log... La stone... E basta E gli hopper Oh... Vi attento a spammare Sono troppo rapido Cioè guarda non cado Sto camminando Sto camminando e non cado E' troppo bello No, no, devo prendere per forza Sì non ti piace qua vero? No, devo prendere per forza l'ascia Non c'ho voglia di prendere l'ascia Per spaccare i cosi I bordi No, non mettere niente Benissimo così Bellissimo Bam Ossidiana Così mi faccio l'ender chest E poi puoi pure rilevarlo L'ossidiana Era solo... È solo per l'ausfizio di avere l'ender chest Un po' più grande Se no ogni volta me la riempo e... Ok vedo se chiamo della glowstone Abbiamo della... degli hopper Commetto di no Dai li apriamo degli hopper Boh... Forse da qualche parte a caso Io metto tutto lo schifo a caso Ho una voglia di ordinare Compriamoci pure uno schiavo che ordina Il minimo dell'ordine Eh ci starebbe O meno che ti smista le cose Ma no, io mi chiedo perché no L'hanno ancora creato Ho dimenticato due di grossi Sai che io... Io devo andare sempre dalle crafting table Ma nel menu della skyblock c'è la crafting table Ogni volta ci devo andare Infatti mi piacerebbe ovunque Pianco all'enderlo Perché ogni volta mi trighi Comunque serve una scala qua di cosa Tanto l'ossidiano non la rompiamo a mano Non si deve aver fatto tutto questi hopper Eh? L'ossidiano non la riempiamo a mano No lo so ma gli hopper non sono giusto perché non ho voglia di... Scendere no? Per prenderli... Per spostare dalla cassa Hop! Ma tra l'altro non potevamo mettere lì la più vicina e fare lo storage Così lui lo spostava in automatico dallo storage a sotto Eh? Gli mettevamo la cassa più vicina Mh E cosa c'è da fare? Lo small storage è vero Dovevamo vedere se va con... Se va con gli hopper abbiamo scoperto Abbiamo trovato la svolta del servo Questa campana di vetro Eh basta che glielo metti qua alla koblet No è sempre pieno vabbè adesso non è pronto Una strega Per non fare quello large però di... È sparita la strega Sì quello large è un piso Non metterceli Però non ho capito a me sembra che li rallenta lo storage Uccidi gli animal Non so Ehm... Ce la diamo qualche storage? Facciamo un piccolo test per la scienza Vabbè dopo quando sarà pieno il minion Da fu... Quando ce lo voglio di andare a guardare Questi sono storage vero Ok possiamo mettere il minion dell'ossidiana se lo trovo Boom ma che tier era? Eccolo Tier 4 pure Però è lento come lo schifo 64 in c'è da renderai tantissimo Beh sono tante ender Potrei usare uno e fare il warp ai portali No due forse non ce ne vuoi uno per lato però No... Voi da tenere da due Con uno Lo vogliamo veramente? Il warp ai portali Quanto c'ha? 42 secondi E se ti piace il coso? 35 secondi madonna Comunque l'encente del charcoal... E' il secchielo di lava Avevamo uppato tantissimo già il minion dell'ossidiana Si a livello 4 Ci racconta che sono 35 secondi a livello 4 Ah no no 35 secondi perché ci sto dal charcoal E' 42 di questo Il flower al 5 invece ne vuole 38 Il flower è ancora più dentro Flower E poi il random non è solo ossidiana tipo è tutto Quindi il flower sarà lentissimo Per quello dovremmo comprare un altro Il flower non è 38 e 46 Vabbè con l'encente del charcoal però Di base non è 38 Eh di più 46 46 al 5 eh Il più lento è il minion di pesca E' lentissimo Il minion di pesca c'ha 60 E' al... E' al... E' al 6 E' 60, si E' la regione Però più storage Eh perché vabbè Quello storage infatti si sblocca un botto dopo Ti aumenta... Ti aumenta il tempo Hai disordinato i pesci Vergoglio Perché devo votare... Non ho tempo per ordinare Tieni guarda ora te li ordino per bene Non ci stanno i cosi Non c'ho ogni volta voglia di vedere... Ogni cassa Devi mettere i cosi Dove stanno i salmoni? Ok Io mi sto chiedendo scusa Ma tutti gli altri pesci Qual è l'utilità di tutti questi altri pesci? Penso le bait Ah è vero Il pufferfish utile per le bait Ci fai le bait Quelle per trovare i mod Là e così Capito? Quanto va a cadere il shot and drawfish? Ne ho 12 Vanno 32 Quanti ne vuoi? Dovamo comprarci... Dovamo farci le Lillipad Per le canne da pesca OP Ecco una... Una cosa che dobbiamo upgradeare è Il nostro livello di pesca per sbloccare i mob belli Comunque noi abbiamo le sponge raid Dobbiamo vendere uno stack di sponge raid a 200k Magari qualcuno ce le compri E sono quelle... Non ci sono più nel gioco Eh lo so Per quello Le droppi Ne abbiamo una sponge raid No no Darla uno stack intero Ti rendi conto che ho preso 29k di bon 29k di bon C'è per finire con l'action? No... C'è per... Non per finirla Però io... Io da solo ne ho presi 29k Te 20 e ti ha 600 Sì... Lo abbiamo svuotato un sacco di volte Quello lei non ha... Ho paura... La cobblestone ha un 45k 102k di corno 93k di ferro Il gold non l'abbiamo mai messo Cioè l'abbiamo messo per pochissimo all'inizio 3k Infatti ci abbiamo 48k di diamanti 41k di lapislazuli 51k di emerald 11... Ti ha invece ci ha superato nella redstone Ho preso 11k di redstone E forse te ne hai preso un bot Sì... La gravel Io l'ho fatta tutta Ice L'ho un occhio al... Sendo Al nether Gli enderman... No... Gli enderman quanto stiamo? Io 39k di enderper L'ho raccolto Madonna... Io forse anche tantissimo Sì sì... 30k... Sto spawnando il boss È basso... È bassissimo 22k di meloni È raccolto Vieni nel ladder Vediamo se va ancora No... Aspetta 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 Mi devo fare le... Le pozioni quelle belle Ce l'avevo da qualche parte L'ho messe Portamene una Le pozioni dell'arco Oddio In realtà... C'è solo l'indicatore di destra Non capisco Oddio non so dove l'ho messe quelle pozioni Le ho craftate e poi le ho buttate da qualche parte Le potevo portare in giro quelle... Le fire resistance... Le archery potion Come si upgradano ste archery potion però? Cioè in realtà adesso non mi ricordo Manca un indicatore C'è solo l'indicatore dall'altra parte L'hai visto Bru? La regen Prima c'è la... C'è la regen C'è la regen a livello 7 no? Diventi immortale Ti da... 40 hp per secondo Cioè 50 hp per secondo Ti recupera La regen a livello 7 Allora io mi devo fare sta archery potion A livello 3 eh Che si fa con l'enchanted glowstone dust Basta Ah e le archery a livello 1 Non a livello 2 Si spiega tutto ora Guarda che se spuone non ci sei trope erbie Adesso arrivo Perché la lava è in basso C'è il lago adesso C'è il lago adesso